In questo momento stiamo vedendo quelli che sono tutti gli attacchi principali, attacchi informatici che stanno avvenendo sul pianeta. Questa in realtà è una piccola porzione, un piccolo campione, in realtà in ogni secondo oserei dire che ce ne sono decine di migliaia. Sono attacchi di vario tipo, quindi ci sono i classici DDoS che sono in buona sostanza, si tratta di mandare a saturazione quella che è una connessione internet e quindi in buona sostanza bloccare tutti i servizi che utilizzano determinati tipi di connessione. Poi ci sono anche altri tipi di attacchi, replay attack, ci sono svariati tipi di attacchi, come se fossero le malattie diciamo. Diciamo che tutto l'insieme di questi attacchi dà luogo a quello che è il cybercrime. Il cybercrime è tutta quella serie di attività di stampo digitale che vengono fatte per ottenere dei soldi. E come si ottengono questi soldi? Si ottengono appunto con svariate metodiche, con i ricatti, si ottengono rubando delle informazioni, si ottengono clonando dei profili in modo da farsi fare dei pagamenti, si ottengono in vario modo. Molti si chiedono in che modo colpisca l'Italia il cybercrime. Un recentissimo studio condotto da Centur ha mostrato che le grandi imprese in Italia arrivano a perdere 6,7 milioni di euro l'anno in media. Ovviamente questa si tratta di una media, quindi c'è qualcuno che andrà a perdere 13, 14, 15, anche 20 milioni di euro e qualcun altro che non perderà nulla. Però come media è abbastanza preoccupante, tanto è vero che ci porta nelle prime dieci posizioni del mondo come quantità di denaro perso a causa di attacchi informatici. Il problema degli attacchi informatici è che non si sa quasi mai da dove provengono, sono molto difficili da prevenire, quindi tutti siamo dei potenziali bersagli e il grosso problema è che possono toccare ogni aspetto della nostra vita. Per esempio in questo momento noi siamo tutti affascinati dai frighi che ci dicono che i cibi mancano all'interno del frigo, che i prodotti vanno in scadenza e via dicendo. Siamo tutti abbagliati dalle pubblicità che reclamizzano questi prodotti. Tutti quanti o quasi ci siamo dotati di un sistema di video sorveglianza all'interno di casa nostra. Questi sono dispositivi che rappresentano il mercato dell'Internet of Things o Internet delle cose. Allora da una parte sicuramente è molto molto positivo perché è un balzo quantico in avanti rispetto ai nostri stili e abitudini di vita. Dall'altro punto di vista è un grosso problema perché si tratta di dispositivi che sono così cresciuti, il cui mercato è così cresciuto velocemente, che i produttori non hanno diciamo tenuto conto delle regole di base di sicurezza informatica in fase di progettazione. Quindi potenzialmente rischiamo di trovarci in casa adottando queste soluzioni anche delle brecce attraverso le quali i criminali informatici possono passare e attaccarci. Non c'è niente da spaventarsi in realtà, ci sono delle buone prassi, delle buone norme di sicurezza informatica da tenere in debita considerazione che possono proteggerci dai principali tipi di attacco.